Buoni spesa, sono stati stabiliti dalla Regione i criteri per l'attribuzione dei buoni spesa. Il Comune di Caltanissetta si è attenuto alle indicazioni per la pubblicazione del bando e ha sottoscritto l'atto di adesione previsto dalla Regione Sicilia. Ha inoltre seguito scrupolosamente le indicazioni date da quest'ultima, pubblicando l'avviso secondo lo schema fornito sempre dalla Regione. I criteri per presentare le richieste sono stati indicati nel bando e li ha stabiliti esclusivamente il Governo regionale. Così come è successo lo scorso marzo, quando la Regione Sicilia, con delibera di giunta numero 124 del 28 marzo 2020, aveva stanziato le somme del Fondo Sociale Europeo per finanziare l'intervento e con decreto del Dirigente Generale numero 304 del 4 aprile 2020, il Dipartimento regionale Famiglie e Politiche Sociali aveva suddiviso le somme ai comuni e stabilito i criteri per assegnare i buoni spesa ai cittadini. Allo stesso modo, lo stesso decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia prevedeva che, per poter ricevere i fondi, i comuni fossero obbligati a sottoscrivere l'atto di adesione con cui si impegnavano a pubblicare l'avviso pubblico rivolto ai cittadini, attenendosi allo schema del bando elaborato dalla Regione del Decreto del Dirigente Generale numero 304. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!